Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video come investire 1000 dollari sui mercati delle criptovalute se sono un neofita, se non ho esperienza di trading, se non sono molto bravo a fare timing cioè a capire quando è il momento giusto per comprare bitcoin, come si fa. Tempo fa su questo canale vi ho portato un video relativamente a una strategia semplicissima ragazzi la strategia più semplice che c'è per chi non sa che pesci prendere in sostanza quando è il momento giusto di entrare si chiama la dollar cost average, è una strategia famosissima, ne hanno parlato in tantissimi ragazzi esiste dal 1930, i nostri nonni probabilmente l'hanno utilizzata per fare i libretti postali, i piani d'accumulo in sostanza significa mettere dei piccoli capitali ogni tot tempo su questo investimento per mediare il prezzo di ingresso e non mettere tutte le uova in un unico momento dentro al mercato perché si rischia in quel caso magari di entrare in un momento sbagliato prendersi un brutto trend ribassista in faccia e questo non piace a nessuno perciò se non siete particolarmente sgamati nel trading, se non avete molta esperienza, non avete molto studiato la problematica di decidere quando è il momento giusto per entrare su un investimento la potete risolvere utilizzando la dollar cost average per quanto riguarda una serie di informazioni relativamente a questa strategia vi lascio in descrizione il mio vecchio video oppure sulla mia testa vi metto il link nelle schede che parlava proprio dei vantaggi e degli svantaggi di questa strategia ma qual è l'argomento di oggi? ho deciso di prendere 1000 dollari di investimento ed entrare sul mercato di bitcoin facciamo questa gara, facciamo questa serie di video ragazzi e vediamo dove andiamo a finire prendiamo 1000 dollari, li dividiamo in 6 importi ragazzi 6 importi tutti uguali ed entriamo sul mercato di bitcoin ogni settimana ricapitolando ragazzi, timing, una volta a settimana compriamo un importo pari a circa 200 dollari di bitcoin per 6 settimane, facciamo un test, facciamo una dollar cost average alla fine di questa scommessa, di questa gara che possiamo fare insieme chiamiamola così, andremo a vedere due cose abbiamo migliorato i nostri livelli di ingresso la dollar cost average ha funzionato, ci ha portato dei profitti ci siamo posizionati per un eventuale trend rialzista di bitcoin lo vedremo fra 6 settimane iscrivetevi al canale quindi ragazzi se ancora non l'avete fatto, se volete fare con me questa gara partecipiamo tutti insieme, non sono consigli finanziari come sempre quindi ricordatevi che il trading è altamente rischioso ci sono i disclaimer in ogni mio video ragazzi, vi faccio vedere semplicemente quello che farò io perché ho deciso di fare questa gara in questo momento non è casuale ragazzi perché sono questa settimana sono avvenute una serie di cose sui mercati delle criptovalute una serie di atteggiamenti, di analisi tecnica di bitcoin che mi ha fatto decidere di fare questo tipo di esperimento con voi in primis per learning by doing imparare a usare questo tipo di strategia facendola effettivamente vedendo un po' come funziona e poi la seconda cosa importante farvi capire quanto è importante il momento di ingresso nella dollar cost average e come si deve fare ragazzi come la si deve fare quindi adesso ci spostiamo sul grafico di bitcoin guardiamo una serie di punti fondamentali che vi faccio capire e vi dirò anche il momento in cui io inizierò a fare il mio primo investimento la mia prima rata del piano di accumulo andiamo a vedere il grafico ragazzi ok allora ci siamo ragazzi questo il grafico di bitcoin che prenderò a titolo di esempio diciamo per vedere un po' quello che dovremmo fare e questo è il grafico di bitcoin su bit stamp con time frame daily ragazzi perché usare time frame inferiori per la dollar cost average non ha nessun senso quindi andiamo a usare time frame daily allora ragazzi ok vi prendo ad esempio questo grafico e vi faccio vedere perché ho deciso di fare ora la dollar cost average in particolar modo per questo tipo di situazione qui anzi ve la faccio con l'altro pennino ragazzi guardate quello che sta disegnando il mercato delle criptovalute in questa settimana va bene? allora questo questo è la logica che mi ha fatto decidere di operare in dollar cost average da qui in poi come una serie di accumuli settimanali a date precise qual è la data giusta per fare questo tipo di operazione sui bitcoin la data giusta ragazzi la potremmo decidere in due modi o prendiamo ad esempio la giornata del giovedì quindi giovedì sera per essere precisi e vi spiego anche perché quindi ogni giovedì proviamo un acquisto alle 10 di sera per dire ragazzi o alle 8 di sera oppure decidiamo in base ai movimenti di mercato per decidere in base ai movimenti di mercato dobbiamo avere magari una giornata rossa ragazzi come sono state queste due una specie di pullback per chi è un po' più conoscente sa quello di cui sto parlando però se voi siete inesperti facciamo una cosa più semplice e decidiamo di entrare giovedì alle ore 20 ogni giovedì alle ore 20 tac facciamo il nostro acquisto ragazzi perché giovedì e non un altro giorno perché esiste un bias nei mercati delle criptovalute per chi non sapesse cos'è un bias è un difetto chiamiamolo così nei mercati perché nei weekend soprattutto venerdì, sabato e domenica ma in particolar modo sabato e domenica sono tendenzialmente rialzisti ora io voglio comprare con i miei soldi dei bitcoin cerco di comprare a prezzi accettabili prima di un possibile rialzo quindi se sabato e domenica sono giorni tendenzialmente rialzisti perché ci sono pochi operatori istituzionali nel mercato io decido di comprare un giorno spurio chiamiamolo così quindi giovedì facciamo il nostro primo ingresso sul mercato quindi abbiamo deciso il timing ragazzi opererò con 200 dollari perché così sono 6 settimane ci viene la cifra giusta lo scriviamo adesso direttamente qui ragazzi così abbiamo tutti i nostri appunti ogni giovedì ore 20 ragazzi per 6 settimane ok? vedremo quello che succederà vedremo quello che accadrà con questo tipo di strategia però una cosa devo dirla io non sono abituato a fare questo tipo di investimenti senza mettere sempre un paracadute cioè un punto in cui io voglio in sostanza proteggermi ragazzi proteggermi dalla da determinati tipi di oscillazioni del mercato qual è la cosa più importante? che il mercato non vada a scendere ragazzi troppo perché è vero che io sto facendo la dollar cost average vedo che sto mediando quindi va bene se il mercato in sostanza non fa massimi però se il mercato scende troppo vuol dire cosa ragazzi? che continuerà questo trend vedete? perché io sto facendo una operatività in sostanza un po' contro trend perché il trend in questo momento del mercato di bitcoin è ribassista è pur vero che io vi ho fatto vedere che qui sta facendo una leggera inversione ed è quello che io mi sto giocando ragazzi per una serie di analisi però a quel punto se continuo questo trend devo starmi attento quindi quale sarà il mio punto diciamo chiamiamolo così punto di non ritorno o comunque di stop di mettere uno stop a questa strategia e sarà questo qui quindi di sotto in sostanza di questo precedente minimo direi intorno ai 6.000 ai 6.000 dollari ragazzi quindi se il mercato mi scende sotto ai 6.000 dollari io a quel punto cosa faccio? faccio pausa dalla dollar cost average e quindi decido per esempio di o non operare più o non inserire più capitali attendere o addirittura anche chiudere completamente la mia operatività quindi punto limite lo chiameremo così della DCA benissimo ragazzi allora abbiamo tutte le carte in regola per fare questo esperimento questa challenge questa gara per vedere un po' cosa succede chi di voi vuole partecipare può farlo sia in paper trading su trading view ragazzi anzi se siete neofiti e non avete diciamo disponibilità di soldi da perdere chiamiamo così o non volete diciamo rischiare praticamente niente fatelo in paper trading come si fa? ve lo faccio anche vedere da qui vedete qui su trading view esiste la possibilità di fare paper trading in questa zona pannello trading cliccate qui connettete il vostro finto conto corrente vedete ok ragazzi allora andate praticamente se non lo avete andate qui cliccate su mostra pannello trading vi appare questa schermata vedete e si può decidere di fare un acquisto quindi io posso decidere qui di cliccare vedete mi fa inserire una quantità che io deciderò in questo caso in base a cosa? ai miei 200 dollari ragazzi quindi se devo fare 200 dollari di ingresso devo fare 200 diviso il prezzo di bitcoin quindi in questo caso sono 200 diviso 8.050 che sono pari circa a 0.025 bitcoin ragazzi ok questo sarà il mio ordine poi premete qui compra bam e vi entra in mercato quando giovedì alle 8 potete farlo su trading view in maniera finta oppure sul vostro conto se vi garba diciamo rischiare queste cifre ricordatevi sempre che non sono consigli finanziari soprattutto chi gestisce chi farà questo tipo di esperimento con me ragazzi scrivetemelo nei commenti così facciamo magari un po' insieme questa cosa ci aggiorneremo magari una volta a settimana anche nei video negli altri video del canale aggiorneremo questa posizione vedremo un po' quello che starà succedendo io utilizzerò binance per fare questo tipo di attività trovate il link per aprire l'exchange binance in descrizione ragazzi del mio video beh ragazzi che dire allora io aspetto i vostri commenti per questa cosa e questo test mi piace sempre fare così mi piace un po' sperimentare mi piace andare a fare le operazioni invece di parlarne in maniera del tutto teorica quindi le facciamo insieme mentre facciamo questo esperimento impareremo una serie di cose ragazzi che non voglio dirvi prima quindi ho deciso di parlare di questa strategia in questo modo chi è con me vi faccia sapere paper trading o binance per i più rischiosi ma ricordatevi che il trading è estremamente rischioto ok ciao a tutti buon weekend e che la forza sia con noi sempre